Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale Buona visione Ci sei? Sì Pasta con le sarde Salve a tutti ragazzi e bene No, aspetta, 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 calma, calma, calma E questa va bianco e nero ovviamente Esatto Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo settimo Dio Cristo bianco e nero anche questo Saluti ragazzi e benvenuti in questo nono episodio della egglock a pokemon di avanti e perla Qui con noi c'è ciao a tutti ragazzi in questo episodio quello che è successo prima di iniziare sto video lo sapete quindi non vi spiego neanche perché sto ridendo Però sti cazzi tia che cosa andremo a compiere in questo video Mi è contagiato T'ho plasmato L'episodio è finito ci vediamo in un prossimo video Tra l'altro io sto guardando la facecam con un coglione che nel video non c'è però Comunque andiamo a sondare il team galassi in poche parole Esatto allora io intanto tipo ero tutto carico e convinto poi non so se c'ho le pozioni Ok si ce l'ho Tra l'altro io tia ti ricordo che ho trovato la master ball Vabbè la ricluta con archias Bello E comunque ragazzi se non avete visto lo scorso episodio mi raccomando passate dal canale di tia e guardatelo perché per l'appunto tra le tante cose che sono state compiute si diceva Eh io ho trovato la master ball intanto mt43 che contiene megacorno Fuoco fatto ma tornato Vabbè inizia molto bene l'episodio per trainerti ragazzi Hashtag stay with t e no tipo si eh sti cazzi Eh lasciate 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 mi piace Ok tu le fai in singolo in doppio In singolo Ok Ti magica Io me la rischio in doppio perché perché sì perché sono a cab allora Tu sei ancora le prime due no? Sì sì Ah ok scialla E tra l'altro devo andarmi a curare perché non ha distrutto magica perché come se non ci possono andare Ottimo Quella bella vita Minchia sanguissuga su lughi e tipo mi ammazzerà sì Tra l'altro in questo episodio ragazzi dovrebbe evolvere magica si spera perché fa schifo adesso Cheat muore alla prima battaglia No è sopravvissuto contro un'archias Attenzione raga appare semaforo Un ritorno nella serie che ci mancava eh Minchia minimo mi shotta due volte C'è lo scheggia su lughi Ai Muori muori Crescita no Ti cresco da furia di pugni ti faccio crescere portato Come stai messo? E diciamo che sono particolarmente disabile No! Quello già si sapeva Chi è morto? No fa rimbalzo e evita gli attacchi il tumore qua Ah ok no credo fosse morto con il cuore Sì però mi sta ammazzando lughi A parte gli scherzi Switcha no Ok No 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 fatemelo curare qua finisce male Allora calma Curati dov'è? Cioè possono morire tutti ma non lughi che forte cazzo Fate scherzi Fate Ma paralizzato Respiriamo Felicità L'ho addormentato sta merda ok ho vinto Perfetto dove sei? E sto battendo il secondo Ok che è il mio primo C'è Nel senso Sì 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 Ok perfetto Proseguiamo raga tra l'altro non mi ricordo questo questo rifugio qua è lungo e corto questi qua mi devono dare qualche strumento Ma vaffanculo pensavo mi adesso mi parlassero ma hanno sfidato stessi merdi Sti merdi A chi è che ta sfida? Eh sono andato a parlare perché sono andato Si sono andato Si sono andato No Oddio Mi avevo quasi un lucario ha provato ad aprirmi il culo Rientra Rotom ti prego Vai un piccolo Rotom Ho mandato serena che si è preso un vento gelato in faccia Oltre a quello poi altre cose però stiamo qua Ho una battuta serena Per forza ma una è già poco Una vuol dire che sia un poco Terremoto Piplup che fa terremoto Ok grazie Perfetto Tra l'altro è spettacolare Sai che bello tipo la setta dei poeti estinti come team malvagio Mi è venuto in mente vedendo la randomizzazione sulla mia rom Sono tutti poeti da me la setta dei poeti estinti Raikou Eh vabbè non avevo letto porcos Ma vaffanculo ma davvero mi sfidano tutti Ma vabbè sono slotted che tristezza sto pokemon rai Hashtag rip lottad perché adesso muovo Eccolo Tu sei ancora Oh 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 Bacca si evolve Attenzione incredibile prima evoluzione della serie Cioè nel senso dopo la battaglia Adesso vedi che prende l'abilità pigrona No perlomeno l'intagheridos è un pochino più forte Diciamo che può scendere in campo senza rischiare l'ergastolo ogni tre secondi Ma ora è la prima battaglia sicuro Se lo vedi Ah hai parlato di poco morti e hai perso Marowak Perfetto tia Ah eh beh Vuoi spiegarci queste tue doti da profeta Vuoi sostituire il rocet nelle mie serie come profeta Mi profilia Ok io sono anche un po' stupito che faccio fanghiglia su Dicolo che non glielo faccio imparare tanto me lo federebbe sette volte su sette Chi cosa? Gerido stradicalbero No guarda che radicalbero picchiature Non ha poca animata di precisione Lo so però c'è nel senso con la sfiga che ho messo Primo poi ho già fendi foglie terremoto che bustati con dragodanza shot Ah c'è allora Poi taglio non posso rimuoverlo purtroppo in stagione ancerogeno Ma neanche nelle ultime realtà Ah no oddio nell'ultima sì perché non ci sono le MN effettivamente Acqua di sale schiata scorpione maledetto magifuoco Madonna tua madre all'intertoto muori Che? All'intertoto penso si era tipo una coppa che si giocava tra le squadre scarse Ah E non è la prima cosa che me è la prima cosa che mi è venuta in mente Ma devo sfidare giovia tua mamma troia? Guarda mi drago danzo via No devo affrontare giovia Eh no aspetta devo dare una voce molto Ma tu sei già su? Sì sì devo dargli una voce molto team galassia Eh ti serve qualcosa? E che domanda sciacca vuoi liberare i pokemon? Già succederà di sicuro Ok Hollywood Io ci sono Se hai bisogno di me Nel caso eh Mi sa che hollywood non ne ha bisogno però No però tipo Sto sfidando robin quindi robin hood Ma ne mancano ancora due allenatori Meno male che non l'ha sentita Ho sentito robin poi ho parlato sopra Come hai detto? No niente 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 La sentiranno loro ti ti si farà Figa Swampert Eh Aspetta chi è che aveva le mie mosse di tipo erba? Chi è che fumava tra di voi pokemon miei? Vieni qua Le rage il tuo momento Tu come sei messo? Se ho abbattuto Manca l'ultima recluta prima dell'ultimo piano Ok In teoria dovrebbe morirci sto Swampert E comunque è riasso mostruoso Mamma mia Io ho critato su Swampert ho vinto tia Cioè veramente Eh va beh Questa serie qua Io Cioè ho come l'impressione Che veramente la perfect run Non sia troppo lontana da realizzarsi Cheat L'ormale L'umorismo di stasideria Si basa su Cheat Esatto Più o meno dobbiamo dire Ok la sto sfidando anche io Mi ha tirato fuori un riolo Bello Terremoto mi sa che lo sfondo un po' male No Che cosa te lo fa pensare? Float Tra l'altro No ok la cattura al monte corona La facciamo più avanti Si 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 facciamo quando proprio dobbiamo entrarci Ok perfetto Ho vinto Olè Madonna raga che potenza Tra l'altro a sto punto Prendiamo la bici e facciamo la pista ciclabile Si dai Ah tia Alla fine della pista ciclabile ci sarà l'incontro storico lui sin da Serena Mi raccomando Mi raccomando Serena sta sempre davanti e sempre dietro Sfiasce Ok Rive Eh Tanto per sapere che pochamone ha Ti ha triggered Esatto Che è Serena non mi ricordo più Melotico Milotic Si 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 Col biscione con le sedi Eh Eh Esatto Acidine Già sposto Da sincronizzazione Mamma mia Ok perfetto Io la bici ce l'ho Quindi penso di poter scendere con Eh io sto andando al centro troppo come una curarmi Io sono già curato perchè io mi curo da solo Cioè Serena che mi sistema tutte le ferite Medikit Eh beh Serena è un medikit vivente Oddio Serena mettimi il cerottino Con quella voce chissà dov'è che te lo devi mettere Sulle palle perchè son castrato con una voce del genere Ottimo Un saluto a tutti quanti i nostri amici a casa senza pa- Mi stava per schiattare no Tom Aia Sto andando alla pista ciclabile Vorrei mettere davanti qualcuno No 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 Che bestemmia la pista ciclabile con la bici che va giù da sola Io ti giuro che C'è una cosa che non posso soffrire nei giochi Poi quella della bici che va giù da sola Anch'io Ma faremo un episodio nei sotterranei cancerogeno? Ehm Ma tipo in live da te farlo a cazzo Ah no è vero che Ma ci sta No a tua madre in sovraccarico la codifica Grazie Hai preso il condito di Expo? No Ottimo Perché? Come si fa a prenderlo? Ehm C'è il tipo Lo scienziato nel passaggio Ah no ok aspetta vado a parlargli Si potrebbe pensare di farlo in live da te magari in modo possiamo trovarlo Ragazzi se questo video raggiunge il 500 mi piace faremo un episodio nei sotterranei a cazzo sul canale di Tia Questo devi metterlo prima del video però perchè se no la metà delle persone muore Eh? Ma questo l'obiettivo è non farlo Ma questo l'obiettivo è non farlo Quello E' bellissimo si gioca nascondino cancro come piccoli bini Cioè chi è che non giocava nascondino nei sotterranei voglio dire Io Ah Che infanzia triste Ok perfetto comunque la codifica tipo è andata puttanea Avete avrete visto per un po' lo schermo laggare Però ragazzi problemi del mio internet Non del mio internet del mio computer che c'è un po' il parking Chi è che ti ha tirato un drago bolide? Zuello Attenzione Uccelli in rivolta Probabilmente non si sono ritrovati Questo è il titolo dell'episodio Uccelli in rivolta Pensi che cosa è vero? Serena in primo piano Eh no ma io devo fare il clickbait sull'incontro tra Serena e Lusinda Alzo Spiace Tia triste perchè lo volevo sul suo canale Esatto Eh adesso prendo Sai sai cosa faccio? Prendo il tuo video Lo scalico Puttana Troia Puttana Troia Dragobolide in sto percorso Eh boh Eh scappati Ok Ma fa un male cane Dragobolide Ok sono pronto per far combattere il Roger Dove sei tipo della pista ciclabile? In che punto? L'hai già visto l'aldoro giallo? No sono ancora la seconda allenatrice Che mi ha tirato giù due Dragoboldi di fila Che mi hanno fatto un male cane Che vita vuota che hai Una vita di merda No sottomissione Tua madre in commissione Muori Raiku 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 Ti ha burlone ragazzi Passa in mezzo alle biciclettiste Come si dice? Cicliste Giusto Ottima intuizione Hashtag biciclettiste nei commenti Ragazzi Vi voglio tutti quanti Ok perfetto Rochett al 21 Appena arriva al 25 lo deposito E non lo uso più per tutta la serie Rochett Ciao Luke Come so ormai ogni episodio ti cito Cioè non funziona così Ormai quelli che sottomettiamo negli episodi Sono Serena e Luke Sì è vero sempre da presidere Luke Ti stiamo mettendo negli episodi Insieme a Serena Non so non so se ti può far piacere Sta cosa Ma sì come disse un famoso Cantante ai tempi Con le sue r moche Fa aprire ad ogni donna Le docci di coscia Non so se la conosci Sta perla di saggezza Lo sa ma ragazzi e con tanto affetto Sapete che io come lo trombo la notte Quindi pensate che le tre siamo stati Una giornata intera game switch Ci saremo anche a game switch Quindi immaginate cosa succede Aspetta Ok c'è il personaggio che tipo varia Ralentatore diventato montolivo Ma un montolivo Sto per incontrare Serena Oddio aspetta Prima però facciamo la cattura Il percorso sotto Giusto? E wait a moment Sotto la pista ciclabile C'è il percorso in cui Sono passato E tra l'altro ragazzi Siamo sicuri che non è lo stesso di quello Di quello quale? No Guarda è quello che Quello dovevamo fatto la cattura Milenobili Ah no 207 niente Sto scherzando 206 non l'abbiamo fatto? No L'abbiamo fatta Mi hai fatto venire in mente L'avremmo fatta fisso Aspetta Non mi ricordo più E mi ricordo io Secondo me si tutta la vita Prima di fare stronzate Che poi non sapete i percorsi È nostro No 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 l'abbiamo fatto Falla 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 Buttati Tra l'altro poi ragazzi Nella grotta che c'è a nord qua Che ha l'utilità di un cesso in cucina La faremo Cioè non la facciamo la cattura sti gran cazzo Giusto tia? Mi confermi se cosa? Non ho capito cos'è l'utilità di un cesso in cucina La grotta La grotta sopra non la facciamo la cattura Tanto Tanto finché trovo Electabuzz Cristo Ma tra l'altro abbiamo ancora solo le poche bocche palle Io ho la master ball Muto E vabbè mori un po' male però Ok addormentiamo Electabuzz Rochets se lo sciotti Bestemmio Quale lingua? Eh con la r moscia sicuramente Lingua non la so però con la r moscia si Pineco se c'è esplosione sto coso Pineco non lo sentivo dai tempi delle elementari però cazzo Pineco proprio proprio no Ok c'è no città vita 11 No ho usato la Facebook ma son cancro Con che bocchiamo giusto per sapere Ok prese Electabuzz Eh vuoi dagli soprannome no che lo devo cambiare Questa cosa non fa neanche mezzo giro Che problema è Ok io direi che possiamo andare giù a Mineropoli Schiudere l'uovo E poi nel prossimo episodio andiamo verso Coripoli Serena è mia quindi Ah no si vince qua Eh No no C'era c'era No c'avevo Luke avvelenato Stavo correndo come un coglione Non me ne stavo accorgendo Stava schiattando Ciao Lucinda Attenzione eccola qua Aspetta il mio Pokédex Metto Serena vuoi vedere il Pokédex Pokédex Non penso che sia il Pokédex quel che vuole Attenzione Serena versus Lucinda Ciao Creepy Chi è quella che lì con te Io mi impegno molto ma non ho ancora scopato un cazzo di cazzo Ma qui Qui non si tratta di me Ho una bella cosa per te Creepy Creepy quale mano scegli Allora di solito mi seguo con la destra Quindi famo un cambio di programma Famo a sinistra Capisco Vuoi il cerca sfide Proprio lui volevo Nel dubbio usa tutte e due le mani Il raspone ignorante Ok attenzione posso avere anche questo Creepy te lo meriti visto che hai lavorato molto sodo Ah figa e culo insieme Esatto esatto Che è qua per censura li chiamano ricerca strumenti C'è censura anche quando lo dico perché Il detector di figa in testa Figurata del figadex Il figadex Poi voglio Nei commenti voglio che voi decidiate I tre starter del pokédex del figadex Grazie Gentilmente Io so per prender l'uovo fratello Quindi allora Vediamo un po' Facciamo box un po' casuali Siamo sul box Questo non lo so Ho già un po' come in mano No davvero Non ci ho fatto caso Hai un po' come in mano Sì un pineco Pineco un pineco Lui insomma Lui Quel cosa brutto Sì perché essenzialmente bruttino Ok perfetto Sono pronto a schiudere l'uovo Poi ragazzi nel prossimo episodio Sia quello di ti Andremo verso Cuoripoli La città dell'amour Vero Serena Eh Ok si sta schiudendo comunque E il mio no Però è un po' restio Chi c'è? Chi è? Evie Beh tu trovi la pietra Poi è bello Ma uh gazzo Facciamo il vero in glassion In glassion Eh ah beh neve eppoli Eh però mi sa che ora che ci arrivo sei già evoluto in qualcos'altro Eh Innanzitutto devi vedere se lo metti in squadra Lo alleni Ok mi si schiude l'uovo Potrebbe essere caruccio questo eh Occhio Com'è lo chiamo Evie? Ehm Ehm Non lo so ma Oddio Merda È lui È lui È lui Non ci credo C'è un clickbait C'è un triplo clickbait Ehm È femmina tra l'altro sti cazzo Come lo chiamogli maschio Non lo so chiamalo No non merda non merda Merda Ok ragazzi questo qua entrerà in squadra una volta che Mamma Ero chiamolo silva Che poterla presto è maschio Cazzo Giga assorbimento intro forze rosario forza antica fatemelo portare al 15 con le caramelle rare Direi di concludere tia che sta già troppo lungo sto video Eh io non so come chiamarlo Chiamalo Eh non lo so Ivi chiamalo 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 Eh doge che ne so Che? Doge non lo so Che chiamalo Cosa che vuoi? Eh spesso voglio farlo evolvere in glaceon qualcosa che ha a che fare con il ghiaccio No sfoghi energia non posso farla imparare a merda perché altrimenti Se lo chiamo ghiaccio tanto è maschio Ghiaccio ci sta Ghiaccio è maschio tanto Io qua immagino il violino di sottofondo che fa No merda non imparerà profumino Merda che profumo mi sembra veramente una contraddizione mica da ridere ok perfetto Ah comunque ragazzi io di pokemon non sto allenando nessuno Ha allenato solo tipo squirtle di tre livelli o qualcun altro non mi ricordo più Sì no io li sto portando con le caramelle rare come al solito ragazzi però Eh anch'io ma ieri mi son messo a farlo dopo tre minuti mi sono lotto le palle infatti è allenato solo squirtle di tre livelli e basta Ok ragazzi come al solito anche se C'è merda però come al solito per il discorso che vi dicevo siccome i pokemon li avete inviati voi mi sembra scorretto puoi togliere dal team Alcuni vostri pokemon per favorirne di altri quindi siccome prima o poi stasera qualcuno ci schiata perché impossibile che vada avanti così poi farò le mie dovute Osservazioni sui pokemon comunque ti ha se ci sei concludiamo Certo Quindi ragazzi mi è caduto il tappo dio Dicevo Ragazzi io spero noi speriamo lo dico sempre io spero noi speriamo che questo video vi sia piaciuto se così vi invitiamo a lasciare un bel mi piace un commento Buongiorno ai giornati e per vedere nostre foto in intimo e noi ci becchiamo in un prossimo video Ciao ragazzi Ciao